Saluti ragazzi, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Oggi siamo qui a Milano, stiamo andando ancora al Samsung District. Allora, siamo arrivati al Samsung District. C'è già qualcuno, mi sembra di intravedere anche Vinci. Wow! Yeah, ciao! Ciao! Uè, Giuliano! Tieni, ciao Giuliano! Siamo qui con Giuliano e Vinci, Vincent e Bianchetti, seguiti su YouTube. Ciao, Michele. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Michele. Siamo arrivati al Samsung District. In realtà ora non ci siamo al suo interno, ma siamo all'interno del Volvo Studio Milano. È molto figo, in effetti. E intanto c'è sempre una coca, cola. Cosa ti aspetti nel S9? È uguale a quello vecchio, però si dice che è più bello, perché in realtà ovvio è appena uscito, però in realtà è l'S8 con una cosa in più. Oddio, c'è una coda immensa da quella che si vede qui. Siamo riusciti dal negozio, dal barettino, perché vorremmo recarci da Samsung. E no, se c'è ancora di S8, è assoluta. Cosa no? Eccola. Siamo qui anche con TechPad. E no, e quindi si è arrivato. Benvenuti a tutti al Samsung District. Mi spiace non poter essere con voi oggi, perché sono a Barcellona per il lancio dell'S9 e dell'S9 Plus. Per questo vi invito subito a correre in smartphone. Allora, mi serve un S9. Sono 999 euro. Ok, quindi questa è la tua carta già registrata. Sì. Spero farvi vedere cosa che succede, no? Allora. 99 euro e 99. Lo sconto? PIN? No, no, noi non salviamo il PIN, aspetti, cosa vuole fare? Mettiamo... L'hai detto prima. Non l'hai fatto vedere, vero? Perché... Giusto? Non ti ha visto? No, no, non lo so. Basta che bassi l'audio. Ok, traduzione eseguita. Perfetto. Sì. Quando arriva? Aspetti, questo è mio. Raga, sto prendendo il S9. E questo è tuo, prego. Grazie mille. Puoi ritirarlo lì fuori? Ah, è già qua. Ma andiamo, dai raga, andiamo. Allora. Grazie a tutti. Allora ragazzi, dopo questa bellissima giornata, e tra l'altro c'è Giuliana che fa tipo mezzo cavalletto umano, esatto, ho preordinato S9 a 999€, quindi questo è il Samsung District e forse ci vedremo l'anno prossimo. Ciao! Ma stai gritando perché noi stiamo chiudendo, no pezzo di merda! Grazie!